Pochettino qui, così, qui, qui, così... E che sto per andare a un colloquio di lavoro, ma mi hanno detto che non sarà un colloquio normale. Hanno detto che saremo in tanti e che vogliono fare un gioco. Voglio fare un gioco. Colloquio di gruppo. È quello che mi ha messo sempre più ansia, ma oggi vediamo tutto ciò che ho imparato e tutto quello che serve per spiccare durante una group interview. Io sono Pietro Galli e... Vivere o morire. No, Gixo, non stavo dicendo quello. Stavo dicendo che questa è Tales of Startup. Bobo buongiorno cari e benvenuti nel mio canale. Sono Pietro Galli e la mia passione è raccontare storie ed aiutare gli altri a raccontare le proprie. Oggi vediamo come affrontare qualsiasi giochettino sadico ci possa essere proposto durante una group interview. Vedremo come spiccare e anche magari come divertirsi durante il processo. Nel caso tu fossi nuovo a questo canale, allora schiaccia il bottoncione del like e soprattutto iscriviti per dare un sostegno e non perdere tutti i prossimi video. Adesso sit back, relax e questa è l'intervista di gruppo. Perché si sceglie di fare questa tipologia di colloquio? Ci sono essenzialmente due ragioni. La prima è perché in questo modo possiamo esaminare un numero abbastanza vasto di candidati in un tempo limitato. La seconda, e molto più importante, è perché questa tipologia di intervista di colloquio ci permette di valutare la dote praticamente più importante di un dipendente, ovvero quanto è bravo a lavorare in gruppo. Esistono milioni di varianti di una group interview, ma essenzialmente il succo è sempre lo stesso. Numero uno, c'è un obiettivo da raggiungere, che può essere lancio a un nuovo prodotto, discuti della nuova strategia di marketing, create la lista delle sette cose che portereste su un'isola deserta, quindi un obiettivo. E numero due, un tempo molto limitato entro il quale arrivare a una soluzione. Spoiler alert! Molte volte il tempo non è minimamente sufficiente per riuscire a arrivare alla conclusione, e questo è voluto. Avendo bene in mente che l'obiettivo di tutto questo colloquio è valutare la nostra capacità di relazionarsi in un team, andiamo a vedere dieci consigli utilissimi per spiccare durante una group interview. Consiglio numero uno, tenere il tempo. Tieni il tempo! Tieni il tempo! Questo serve per essere il punto di riferimento all'interno del nostro tavolo. Come abbiamo detto, il tempo che ci verrà concesso è sicuramente scarsissimo, e quindi essere noi la persona incaricata di vedere e di dettare le tempistiche di ragionamento ci farà integrare ancora di più con il gruppo e ci potrà appunto mettere in questa posizione un pochettino più di spicco, tra virgolette. Consiglio numero due. Concordare una regola comune. Come abbiamo citato al punto uno, il tempo sarà sicurissimamente insufficiente, e la cosa peggiore che può succedere è arrivare alla fine e non aver prodotto nessuna conclusione. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare, molto molto importante, è dire Ragazzi, sicuramente non ci sarà il tempo per finire il nostro ragionamento. Quindi, quando mancano cinque minuti, non è importante a che punto siamo arrivati, giù le armi e iniziamo a scrivere qualche conclusione. Questo è fatto apposta, perché moltissime volte dovremmo fare trattative, ed è molto importante riuscire a mediare e a un certo punto dire Ragazzi, né io posso vincere e nemmeno te puoi vincere. Arriviamo a un punto in comune e piuttosto produciamo risultato, perché zero risultato vuol dire che tutti abbiamo perso. Vediamo un esempio pratico di come dire questa cosa. Quando siamo tutti seduti al tavolo prima di iniziare, possiamo esordire dicendo una cosa tipo questa. Ragazzi, se siete d'accordo, io penso che il tempo che ci verrà concesso non sarà mai abbastanza e probabilmente in queste simulazioni ci metteranno anche a negoziare uno contro l'altro. Vi va bene se, indipendentemente dal punto al quale siamo arrivati nel gioco, quando mancano cinque minuti alla fine, iniziamo a mettere giù le nostre conclusioni, almeno avremo qualche cosa da presentarlo. Per me non è un problema, posso anche tenere il tempo, tanto ho l'orologio qua. Abbiamo così fatto la nostra proposta della semplice regola e oltretutto ci siamo proposti come timekeeper. Due piccioni con one fava. Numero 3 Presentare i risultati è assolutissimamente fondamentale, perché la persona che si alzerà e andrà a fare questa presentazione starà sotto i riflettori ed è molto, molto più probabile che venga ricordato da chi ci sta esaminando. Ti dico come funzionerà. Nel 99% dei casi va così. Finito il progetto, chiederanno c'è qualche d'uno che si sente di presentare e vuole presentare i risultati del proprio gruppo? In quel momento ci saranno dai 3 ai 5 secondi di imbarazzo e di silenzio, nel quale nessuno si proporrà per due motivi. Il primo è perché magari nessuno ha voglia di passare da spucchioso, sborone che dice no, 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 presento io per tutti senza consultarsi con il team. Il secondo è perché, ragazzi, fa paura alzarsi e presentare, specialmente quando non hai prodotto grandi risultati, perché il tempo limitato è fatto apposta per non farti produrre risultati. È lì la nostra occasione. Entro i primi 3 secondi dobbiamo proporci per andare a presentare. Ma come possiamo farlo senza risultare troppo boriosi, troppo egocentrici? Un modo per farlo che io ho utilizzato abbastanza spesso e mi sono trovato sempre molto bene è non appena viene fatta quella domanda, girarsi subito verso i nostri compagni di squadra e dire una cosa del genere. Ragazzi, se volete posso andare io a presentare, per me non è un problema. Decidete voi, c'è qualcun altro che magari avrebbe più piacere di andare a presentare? Bam! Ci siamo proposti, ma comunque abbiamo anche lasciato la porta aperta a qualche di un altro se volesse intervenire. È molto difficile che una persona dica no, 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 vado io, resta pure a sedere. Anche perché sembrerebbe un pochettino troppo entrante. Quindi ci alziamo, andiamo a presentare, molto molto importante, mentre siamo là davanti a tutti, utilizziamo sempre il plurale, perché è un lavoro fatto dal team. Se ci fanno delle domande proviamo a dare una piccola risposta, ma non facciamoci problemi a girare, a chiedere informazioni, a chiedere pareri a tutto il resto dei ragazzi e a menzionare, nel caso ci fosse stata qualche idea veramente ganza, data da uno o due elementi, dire ah, guarda, Giovanni ha avuto in questo caso un'idea bellissima e per questo abbiamo preso questa strada. Fare i complimenti ai ragazzi del nostro team è molto importante. Alla fine non siamo uno contro l'altro, anzi, più abbiamo collaborato bene insieme, meglio è. Ok, ma che succede se al colloquio becchi qualcuno che ha già visto questo video e dentro i primi tre secondi si propone lui, come possiamo fare per non perdere questa occasione? Una cosa che possiamo fare è dire al ragazzo o alla ragazza che si è proposta prima di noi perfetto, non c'è problema, vai pure. Se vuoi io ho preso un po' di appunti, un po' di dati, vengo con te, così nel caso di domande riesco magari a darti un supporto un pochettino più tecnico e affrontare le domande insieme. Comunque la presentazione farla pure te. Così ci proponiamo come secondo, però insomma è sempre meglio che stare in panchina e magari quando finita la presentazione ci saranno delle domande avremo la nostra occasione per intervenire e fare parte della discussione. Consiglio numero quattro! Prendere appunti è molto importante proprio perché una volta che andremo a presentare o a essere di sostegno la persona che presenterà i risultati, avere uno storico delle decisioni che abbiamo preso e del motivo per cui le abbiamo prese ci aiuterà tanto a fare una presentazione ancora più di impatto e essere più efficaci. Consiglio numero cinque! Hai presente il cartone animato degli Incredibili? quando c'è il mister incredibile che si mette il costume da supereroe e dice la solita frase Si va in scena! Sì, è grazie ai miei fratelli più piccoli che ho questa incredibile cultura di cartoni animati del nuovo millennio. Il succo è che per noi vale la stessa identica cosa ma non dal momento nel quale inizia il colloquio dentro quell'aula no no, dal secondo nel quale barchiamo il cancello dell'azienda it's show time dobbiamo essere il leader che loro vogliono che tu sia vediamo un pochino, sono cazziato un po' di congiuntivi che non vuol dire fingere o essere diversi da come siamo vuole semplicemente dire essere la migliore parte di noi stessi ti faccio un esempio ho un amico che è andato a fare un colloquio di più di un giorno all'interno di un'azienda alla fine di questa giornata di colloquio gli hanno detto perfetto, ti assumiamo non solamente per come ti sei comportato durante la valutazione ma perché durante la pausa pranzo a mensa hai versato l'acqua a tutti i tuoi colleghi prima che a te stesso questo ci ha ulteriormente dimostrato che sei una persona particolarmente empatica e attenta al prossimo che è esattamente ciò che cerchiamo valutazione fatta a mensa in pausa pranzo quando teoricamente nessuno avrebbe dovuto controllare nessuno avrebbe dovuto esaminare il nostro operato quindi almeno per quella giornata prestiamo particolarmente attenzione a fare a modino sempre consiglio numero 6 impara i nomi usa qualsiasi metodo tu voglia scriveteli, chiederglieli più volte, tatuateli, fagli una foto quello che ti pare ma per il momento nel quale inizierà il colloquio dobbiamo essere pronti a chiamare ogni persona del nostro team per nome fa veramente tanta 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 differenza consiglio numero 7 ridi, divertiti, sii aperto cerca anche di non prenderti troppo sul serio e sii assolutissimamente disponibile verso qualsiasi opinione degli altri sì 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 tutto molto bello questa carrellata ma le difficoltà vere come le gestisco? ottima domanda lo vediamo subito per esempio come facciamo se una persona ha un'idea diversa dalla nostra per come impostare il progetto e noi siamo assolutissimamente sicuri che si stia sbagliando? che dice come facciamo? facile gli si dice no? guarda sei veramente un rincoglionito è chiaro che io ho ragione e ti hai torto ma dove hai studiato? questo può essere il nostro istinto soprattutto se sei un ingegnere rompicoglioni come me però consiglierei un approccio un pochettino più aperto e proattivo della serie invece di dirgli tutte le motivazioni per cui la sua scelta è sbagliata perché non proviamo a domandargli invece le ragioni per cui pensa che sia giusta? quindi invece di dirgli no questo non va bene questo è sbagliato questo è invece in un altro modo perché non gli chiediamo come mai pensi che questa decisione sia giusta? quale altre opzioni abbiamo? ah e se prendiamo A come dici te come facciamo a fare questa cosa? ok e perché questa cosa è meglio di B? e cerchiamo piano piano passo dopo passo di validare l'idea e in questo caso succederanno due cose la prima cosa che può succedere è che il resto del gruppo segue il ragionamento concordi con te e veda smontarsi la decisione che aveva preso quest'altro e quindi per maggioranza la tua decisione la nostra decisione vincerà due andando avanti con questo brainstorming cercando di validare quest'idea saremo noi invece a accorgersi che la proposta lanciata da quest'altro ragazzo non era invece così male e potrebbe anzi funzionare e saremo noi a cambiare idea in entrambi i casi non è importante la cosa essenziale è che siamo stati al centro della discussione abbiamo lanciato idee abbiamo amalgamato il team e stiamo continuando per una strada importantissimo non spendiamoci tanto tempo il tempo è preziosissimo e limitato proviamo ad attuare questo metodo se dopo 2-3 minuti di domande si vede che questa persona nonostante magari stia sbagliando è convinta tutto il resto del gruppo è on the same track quindi è d'accordo con lui perfetto andiamo per quella non c'è tempo da perdere molto meglio raggiungere un risultato sbagliato che non aver raggiunto niente consiglio numero 8 incoraggiare il dialogo c'è sempre in un colloquio di gruppo una o due persone che sono un pochettino più timide o un po' più riservate ecco noi non dobbiamo essere quelle persone però dobbiamo cercarle di coinvolgere nel nostro ragionamento e quindi nel caso si veda dopo 5-6-7 minuti che c'è una o due persone particolarmente assenti allora cerchiamo anche di spendere un pochettino di tempo per spiegargli i ragionamenti che abbiamo fatto e chiediamo 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 la loro opinione coinvolgere le persone è veramente molto apprezzato consiglio numero 9 chiedere conferma dopo aver fatto un'affermazione visto che dobbiamo cercare di lanciare quante più idee possibili non dobbiamo però passare da quelli spocchiosi che hanno già la risposta in testa e non vogliono ascoltare gli altri quindi dopo ogni affermazione è molto importante chiedere ragazzi che ne pensate siete d'accordo va bene questa cosa qua ed essere apertissimi alle loro critiche e se vogliono cambiare strada cambiamo strada non è un problema l'importante è che siamo sul pezzo stiamo coinvolgendo il team e lanciando idee quella è la cosa essenziale tutto il resto non è importante consiglio numero 10 il più importante di tutti come gestisco i rompicoglioni ok questo è il momento nel quale ti devo ricordare di schiacciare il bottoncione del like e soprattutto di iscriverti al canale un piccolo click per un uomo un grande balzo per il Tales of Startup ti ringrazio tantissimo per tutto il tuo amore e non riesco mai a spiegarti quanto questo significhi per me adesso andiamo a vedere come gestire i rompipalle gestione delle persone particolarmente ostiche piccola premessa devo dire che in tutti i colloqui di gruppo che ho fatto lavori di gruppo e ne ho fatti veramente tanti mi è successo rarissime volte di trovare una persona veramente veramente pallosa ma nel caso ti dovesse succedere vediamo due o tre cose che possiamo fare per riuscire a gestirlo delle volte può capitare la persona troppo entrante quella troppo sicura che lancia due tre quattro cinque idee senza nemmeno ascoltare che cosa abbiano da dire gli altri e cerca di andare per la sua tangente ecco noi in questo caso lo compensiamo cercando di spostare il discorso su tutto il resto del gruppo quindi iniziare a chiedere a tutti gli altri componenti ma te cosa ne pensi di questa idea te cosa ne pensi di quest'altra di modo da creare una conversazione che riesca un po' ad arginarlo lui vuole fare il solista ok noi dobbiamo fare invece i maestri d'orchestra perché il gruppo tanto vince sempre contro il solitario e tra l'altro se una persona è particolarmente pallosa tutto il resto delle persone lo nota e quindi tenderanno anche loro ad arginarlo un'altra cosa molto interessante che possiamo fare e questo si ritorna al mio libro preferito te lo consiglio tantissimo pitch anything di Oren Klaff e ciò che dice lui è farci passare qualcosa quindi dirgli una cosa tipo ascolta là c'è il mio zaino dentro c'è una penna mi serve me lo potresti passare un secondo mentre lui fa questa cosa iniziamo a lanciare altre idee al gruppo e a intavolare un'altra conversazione non abbiamo tempo adesso per spiegare tutta la teoria che sta dietro a questo semplice gesto fondamentalmente una persona che si sente particolarmente alfa come questo individuo se te gli dici oh mi passi qualcosa lo stai implicitamente rendendo più beta perché lui sta facendo qualcosa per te e soprattutto ci dà un ottimo momento di tempo nel quale lui non sta chiacchierando per spostare l'attenzione sul gruppo ovviamente sempre educati sempre sorridenti non facciamoci vedere più stronzi di lui perché se no non funziona ultima cosa che possiamo fare per cercare di arginarlo un attimo è zittirlo tra virgolette con un complimento quindi lui sta andando per la sua tangente e noi gli diciamo sì secondo me questa è veramente un'ottima idea voi ragazzi che cosa ne pensate pensate che vada bene ci sono delle debolezze che magari non riesciamo adesso a capire come potremmo agire lui è appagato perché beh sei figo ti ho fatto un complimento ma intanto cerchiamo di parlare con gli altri mi raccomando essenziale se veniamo provocati non rispondere alle provocazioni ti faccio un esempio colloquio il Lamborghini stavo ovviamente prendendo gli appunti perché sapevo e poi avrei voluto presentare questa persona mi fa ah sì sì bravo bravo scrivi che ci serve un segretario magari poi mi passi gli appunti cosa? cosa? che cosa ho fatto? invece di iniziare a guardarlo male saltarle addosso e a coltellarlo con la penna gli ho semplicemente chiesto guarda là c'è il mio zaino me lo passeresti un attimo che dentro c'ho una matita che mi serve per fare un paio di schizzi mentre l'ha fatto ah Anna scusami perché il segretario è rimasto un attimo indietro stavi dicendo volevi andare per l'opzione B ma perché quali sono i pro e i contro che ci vedevi? e ho continuato a scrivere a fare il mio lavoro a convolgere tutto il gruppo ovviamente io dopo sono andato a presentare sono passato avanti e lui è andato a casa affangolo come in tutto soprattutto nel colloquio di gruppo serve un sacco un sacco un sacco di pratica quindi ogni volta che hai l'occasione ti consiglio vai a fare dei colloquio di gruppo anche se l'azienda non ti interessa meglio vuol dire che sei molto più rilassato e questo serve non solamente per prendere dimestichezza con le dinamiche ma anche per conoscere noi stessi e capire qual è il nostro stile tra virgolette di leadership che ci è più che un geniale molto molto bene my friend abbiamo finito anche questa carrellata fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi se ci sono delle domande particolari delle situazioni che vorresti vedere analizzato mi raccomando non ti dimenticare di schiacciare il bottoncione del like e soprattutto di fare cosa oramai lo sai di iscriverti al canale ci vediamo giù nei commenti ci vediamo per un messaggio privato ci vediamo soprattutto nel prossimo video ma fino ad allora fino ad allora come già sai fai a modino